Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica di Serie B a causa di irregolarità gestionali di alcuni dirigenti. Questa è la sentenza del Tribunale federale nazionale della FIGC, una sentenza che stravolge il volto della classifica e va ad intaccare il destino del Foggia. Alla luce della decisione della giustizia sportiva, i rossoneri retrocessi sul campo dopo il bruciante KO incassato a Verona sabato pomeriggio salgono in quart'ultima posizione e conquistano l'accesso ai play-out contro la Salernitana, con il Venezia che invece guadagna la salvezza diretta. La sentenza del Tribunale federale non scrive però la parola fine sulla vicenda. Il Palermo avrà infatti 48 ore di tempo per formulare ricorso, i cui esiti si avranno tra 10-15 giorni. Contestualmente in Casa Foggia si attende il risponso di un altro giudizio, quello del 17 maggio sul punto di penalizzazione. Nel caso in cui i rossoneri venisse restituito quel punto, si avrebbe la certezza di disputare i play-out anche senza attendere gli esiti del percorso legale del Palermo. Saranno dunque giorni di attesi in Casa Foggia, giorni durante i quali la squadra si allenerà per farsi trovare pronta ad ogni eventualità, considerando che la data di avvio di play-off e play-out, prevista inizialmente per il 17 maggio, sarà a questo punto rinviata di due settimane.